finalmente dopo tantissimo tempo hanno annunciato un nuovo mafia finalmente the old country ovvero terra madre tradotto in italiano ma prima vi ricordo di seguirmi su tutti i canali social ragazzi usufruite dell'80% di sconto che potete trovare il link in descrizione signori parliamo di questo mafia allora quanto pare dovrebbe uscire nel 2025 e soprattutto è ambientato in italia quindi dopo assassin's creed 2 abbiamo un altro gioco in cui è ambientato in italia nell'amata terra siciliana però c'è una cosa molto importante che dovete sapere allora intanto non sappiamo né la trama né il protagonista è soltanto un teaser trailer classico ed è ambientato nel 1900 ma soprattutto il gioco stranamente non è doppiato in italiano ma ci sono delle parti che è in siciliano ora ditemi che cazzo di senso che logica c'ha se è un gioco ambientato in italia non si parla italiano ma che cazzo vuol dire? ma che cazzo vuol dire? io vado in Australia e parlo francese ma ma che vuol dire? ma perché? ma perché? cioè non ha senso non ha proprio senso perché un gioco dove è ambientato in italia non dovrebbe essere doppiato in italiano? cioè io ancora questa cosa non la capisco non la capisco veramente comunque ancora non sappiamo nulla del gioco quindi attenderemo con ansia e hanno detto anche perché verso dicembre ne sapremo qualcosa di più potarsi che mostreranno che ne so eh un gameplay un trailer un po' più approfondito della trama non si sa comunque aspetteremo a braccia aperte e nel mentre che ne so se ci avete tempo giocherete ai vecchi capitoli mafia 1 la remastered il 2 e il 3 con tanto di DLC e tanto altro ancora quindi ok ok